Si lavora un piano in costiera amalfitana dopo l'ondata di maltempo che ha causato allagamenti e danni ad Atrani, Ravello e Minori dove il primo cittadino chiarisce i progetti in campo. Questo episodio ripropone una problematica enorme, importante, quella della colata fango e dell'idrogeologico. Il comune di Minori già attivato con Vera Gorbelli, con l'autorità di Bacino, l'Appellino Meridionale, una progettazione che finirà fra due o tre mesi che ci porterà a sapere precisamente quali sono gli interventi strutturali e le opere di monitoraggio e preallertamento che servono per comune di Minori. Convivere con questo problema. Intanto quelle tre ore di pioggia ininterrotta, ben 190 e millimetri caduti, hanno spaventato i residenti. Sono state tre ore di pioggia decisamente intensa, praticamente c'era un fiume lungo tutto il corso ma anche nelle stradine dove abito. Un po' di paura sì però, non tanto, ce l'abbiamo cavata. La situazione era molto tragica perché pioveva di rotto per due ore, una cosa tremenda. Acqua, acqua che scendeva come catinelle proprio. Quando ho visto che più di un'ora e mezza che non smetteva di piovere con quella intensità sicuramente ho avuto paura. Noi abbiamo le famose macere, i nostri giardini abbandonati e automaticamente l'acqua dilava verso il basso. Ma l'attenzione resta alta dalla mezzanotte e allerta gialla sulla costiera amalfitana, come ha comunicato la protezione civile della regione Campania. Previsti violenti temporali e vento forte.